Costerà 1000 euro cenare sull'Arno sul Ponte dell'Amore? Si chiama The Bridge of Love, il progetto dell'architetto fiorentino Claudio Nardi sul quale si sta lavorando in vista dell'inaugurazione lunedì, data appunto della cena di gala che aprirà la novantesima edizione di Pitti Immagine, una cena per 250 ospiti, tra i quali la top model Bianca Balti, che si è assicurata a uno dei posti a tavola da 1000 euro in su. Soldi che finanzieranno una buona causa, il ricavato andrà interamente all'Agenzia dell'ONU per i Rifugiati, in particolare al progetto Lifeline Jordan, che si occupa di sostenere circa 135.000 profughi siriani. The Bridge of Love è un'installazione composta da nove saloni galleggianti di vetro, connessi tra loro da piccoli ponti e corridoi di comunicazione. I nove saloni saranno contenuti in grandi box di tulle bianco e rimarranno aperti per quattro giorni di eventi e ospiti. L'opera simboleggia la volontà di dare speranza a chi vive grandi difficoltà e mira a tenere alta l'attenzione sulla crisi dei rifugiati. Nell'ambito del programma di eventi della Giornata Mondiale del Rifugiato, che si celebra il 20 giugno.